Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Un danno decisamente molto importante per la viticoltura valtellinese per il quale l'imperativo è ora salvare il salvabile. Tre le sottozone colpite durante la grandinata dello scorso giovedì notte, il raccolto di uve delle quali, a due mesi dalla vendemmia, sarà certamente decimato. È uscita dalla Val Malenco la perturbazione e il vento forte ha colpito i vigneti risalendo la valle, partendo dalla zona del Grumello, dove il danno stimato è circa del 30-60%. La zona più colpita invece è sotto zona dell'Inferno, dove il danno arriva fino anche all'80%. Sassella invece è stata colpita di striscio, il danno è intorno al 10-20%. E adesso tocca riparare i danni provocati da madre natura. Come? Con trattamenti mirati che innanzitutto facciano asciugare i grappoli nel minor tempo possibile, facendo così sviluppare la parte restante delle uve, quelle sane, in maniera adeguata. Al danno lasciato dalla pandemia si è aggiunto un ulteriore danno che dovremo in qualche modo accompagnare con azioni assolutamente necessarie e mirati, coinvolgendo tutte le istituzioni sul territorio e poi rappresentare successivamente questa problematica ulteriore a livello regionale e a livello nazionale. Col diretti Sondrio c'è con le sue strutture per cui darà la necessaria assistenza a tutti i viticoltori e tutti quelli che naturalmente sono vittime di questo problema. Anche perché quanto di salvabile ci possa essere tra i filari, sarà possibile capirlo solamente nel momento in cui tutti i viticoltori saranno entrati nelle vigne, prendendo atto di quanto in realtà è successo. Col diretti Sondrio promette la massima collaborazione.